Che cosa? Che cosa? Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, il giorno in cui finalmente un'intelligenza artificiale mi avrebbe rubato il lavoro. Non c'è scampo per nessuno, verremmo tutti rimpiazzati e voi direte No Richard non è vero, ci sono cose che le macchine non potranno mai fare. Beh ditelo a questo sito Art Breeder che ho appena scoperto e che fa delle cose veramente miracolose Che mi fanno rivalutare il mio piano B per la vita, anzi era il mio piano C quello di aprire una gelateria Non so qual è il vostro piano C, fatemelo sapere nei commenti nel caso vi andasse tutto quanto male nella vita Cosa vorreste fare? Io una bella gelateria è sempre stato il mio piccolo sogno alternativo Cosa fa questo sito? Art Breeder sfrutta l'intelligenza artificiale per creare delle immagini nuove Sfruttando però un archivio di immagini che ha al suo interno, ma andiamo sul lato pratico E qui ci dice cosa vogliamo creare, vogliamo una cosa in generale, un ritratto, un personaggio, un paesaggio Una opera sci-fi artistica, una specie di copertina per un album, i furri, addirittura può creare i furri Partiamo dai furri, abbiamo la possibilità di creare un nuovo furri Cioè i disegni che ora vedete qui sono stati creati in automatico da questa intelligenza artificiale E quindi c'è questo primo, il secondo, il terzo, infatti c'è qualcosa di strano in questi disegni Perché non sono stati generati da un uomo E ora qui ci sono una serie di valori, tipo che ne so, quanto lo vogliamo furri Tipo diminuiamo al massimo il nostro valore umano Ed ecco qui che vengono generate delle altre immagini Oppure lo vogliamo più umano, ecco qua Quindi gli mettiamo un altro valore Ah ce ne sono alcune proprio molto strane Oppure lo vogliamo più manga, ecco facciamo che lo vogliamo più manga E quindi crea degli ibridi manga furri Infatti questo qua è un manga ma ha le orecchie da furri O forse non lo vogliamo proprio per niente manga E quindi diminuiamo proprio al minimo il valore manga E allora va più su qualcosa di questo tipo Insomma la cosa da tenere in considerazione è che questo programma, questa intelligenza artificiale Impara da queste immagini che vengono generate Per generare sempre nuovi disegni, illustrazioni Quindi proviamo, non so, a creare un nuovo anime Possiamo anche selezionare delle immagini di riferimento Mi piace, non so, questo personaggio E vorrei fonderlo a livello stilistico con un altro disegno Tipo con questo qua Ecco, io ora ho questi due disegni E posso decidere come l'intelligenza artificiale può elaborare queste informazioni Ora per esempio mi ho andato a creare delle immagini ibride Ma posso decidere di dirgli tipo Ok, per quanto riguarda lo stile del disegno Mi devi prendere principalmente questo stile Il contenuto di questo disegno meno Quindi di più il contenuto di questo disegno E meno lo stile di questo disegno Ed ecco qui che sulla base delle informazioni che gli abbiamo dato Ha creato tre immagini completamente nuove, inesistenti Poi ok, qui possiamo dirgli le varie cose Tipo non so, capelli lunghi Ora magicamente hai capelli lunghi Bocca chiusa E alcuni sono anche credibili Hanno qualcosa di nuovo, tipo questa bocca che è proprio orribile Ma la vera cosa che mi preoccupa di questo programma è un'altra Ed è principalmente la funzione che mi fa dire Eccola qua, insomma devo andare ad aprire la mia gelateria E cioè la possibilità di poter prendere una fotografia e un'illustrazione E poter decidere in che modo creare un'immagine nuova partendo da queste due immagini Per esempio se io seleziono l'immagine di questo tipo Eccolo qua E un disegno, un'illustrazione, un dipinto Un qualcosa che mi piace dal punto di vista stilistico e grafico Tipo, vabbè, questo Ora io gli posso dire prendimi questa foto E vammela realizzare con questo stile di disegno Ecco qui la magia Sei venuta in curiosità No perché adesso, cioè Guarda È diventato anche una via di mezzo a livello estetico Eh ma, vediamo Facciamo così Sì ma gli è venuta la barba Non c'è nessun motivo per cui Sì vabbè, è per dire È un risultato che è stato generato in mezzo secondo Tu in mezzo secondo l'avresti fatto così Dopo gli avrei tolto la barba Nell'altro mezzo secondo rimanete Certo E quindi ho deciso di fare questo video per andare a valutare le potenzialità di questo strumento E vedere se effettivamente può essere utilizzato come uno strumento per lavorare Diciamo per rimpiazzare effettivamente il mio lavoro Quindi ho preparato da una parte una serie di foto Tra cui anche una mia Eccola qua C'è Francesca Ci sono io Però per esempio se noi andassimo a prendere quindi la mia foto Che è diversa da me Perché io ho caricato la foto nel programma E adesso vedo questa foto che però è leggermente cambiata Si vede che l'intelligenza artificiale scompone la fotografia E la rielabora in maniera da poterci mettere mano Perché insomma io all'occhio strabico Non mi sembra Come mai ho un dente gigante verso il centro della faccia? Non me la ricordavo così la mia bocca E quindi possiamo sia prendere la mia faccia E stravolgerla in mille modi Tipo qua c'è il fattore caos Che se alziamo Fa casini Oh mio dio No 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 riabbassiamolo Riabbassiamolo Però possiamo andare a modificare anche tanti altri elementi Tipo vi siete mai chiesti come sarei stato Se fossi stato un po' più asiatico? Ecco andiamo a prendere questo valore E eccomi Magari un po' meno Un po' meno asiatico Giusto per farmi gli occhi un pochino a mandorla E' incredibile E se fossi stato un po' più scuro di pelle? Tipo un po' più black? Divento mia madre Poi un po' più giovane Questo non è giovane Questo non è assolutamente giovane Questo è Me Un po' più scuro e più anziano Divento Morgan Freeman Ovviamente Oppure se resettiamo tutto quanto E vogliamo semplicemente vedere me In versione donna Ho sbagliato Ho sbagliato E' dall'altro verso che devo andare Questo qua è tutto il mio processo di transizione Poi possiamo farlo sorridere di più No un po' troppo O farlo sorridere di meno E così mamma mia Cioè mi ha cambiato anche lo sguardo Sembra morto dentro Ma cosa ne penserà Kama Di questo straordinario dispositivo Che ci ruberà il lavoro e anche il suo? Scopriamolo In definitiva Kama tu devi avere paura di questo strumento Perché se questo strumento davvero Prende piede e mi ruba il lavoro Di conseguenza Tu ruba anche il mio Viene a fare il gelataio con me Allora in definitiva E falleremo anche lì Vi incontrate un vincolo Esatto Viene a fare Falleremo anche lì Puoi mettere? Se anche succede qualsiasi cosa Hai un lavoro assicurato Tra le varie potenzialità di questo strumento C'è Nel prendere in generale delle immagini a caso E generare delle nuove immagini Quindi per esempio Noi vogliamo prendere Ecco questo cane Vogliamo aggiungergli un gene Tipo vediamo Architettura Animali Un gatto Un gatto persiano Stavo proprio guardando Sì Sì E gli diciamo di fondere questi due aspetti Vai pure orribile Ma cos'è? Un gatto orribile e un cane bello Fanno un cane bellissimo Sì ma Quasi bellissimo E possiamo dirgli di andare un po' più verso il persian cat Vediamo Mi sa di averlo visto su un giornale questo Però ho delle potenzialità in questo programma Per creare obrobri Cos'è? È la coda questa È la coda di un gatto con la faccia del cane Proviamo tipo a mettere anche cibo Uniamo la fragola e il cane Guarda come diventano delle cose strane Ma che schifo è una fragola vomitata quella Che cosa? Che cosa? Un chiedimi Che cos'è questo? Fa veramente schifo Aspetta allora Aggiungiamo anche un po' di cane Perché è troppo fragola Eh beh Era molto fragola Era molto fragola Mamma mia Aggiungiamo Aggiungiamo un altro po' di cane Per favore Per carità Guarda guarda Ma dov'è la fragola? Come non vedi Non ci vedi la fragola? Proviamo in un altro Selezioniamo un nuovo gene Strutture Vai No Un planetario Ok Ah ecco Ecco qua Che cosa è successo qui? L'altra cosa però che volevo farti vedere era Sì Che tu puoi anche creare dei veri e propri disegni Ti piace questo disegno? No Vabbè a me piace E oppure che ne so E questo disegno E tu gli dici tipo Prendimi lo stile di questo Il contenuto di questo Un pochino meno di questo E ti fa la fusione Guarda Guarda Ha preso i colori da qua Questo è totalmente inventato È totalmente nuovo questo Sì Sì E invece l'altra cosa era Che può creare dei veri e propri ritratti Proviamo a vedere Vabbè questo qua con la barba E a prendere uno stile grafico Che possa piacerci Oh come sembrava carino Quale? Questo Vediamo Effettivamente È l'unione di queste due cose E guarda qua A parte Johnny Depp al centro Sembra proprio Johnny Depp È vero Io mi metto nei panni no Tipo di tutte quelle volte in cui Lo youtuber mi dice Oh mi fai in versione cartone animato Proviamo a vedere se con questa intelligenza artificiale Possiamo farlo in uno schiocco di dita Per esempio Frafrog Viene da me e dice Ma ti prego Nijerd Io so che tu sei il più bravo del mondo E quindi mi voglio affidare a te Per fare una cosa che io non sono in grado di fare Potresti disegnare E io dico Ok va bene Questa è una francicina un po' Qui l'intelligenza artificiale la scompone E la ricompone Ok ok Ora per esempio Vogliamo fare francicina Proviamo a vedere questo schiocco Vai di quello lì Vai di quello lì Tipo Francesca vuole un'immagine cruda Oh oh Attenzione Ora anche qui È un po' anonimo Nel senso C'è questo effetto un po' digitale O comunque fatto da un'intelligenza artificiale Però ricordiamoci che È un'intelligenza artificiale Che impara Cioè nel senso È per dire che In base al proprio database Pian piano Perfezionerà questi risultati Quindi tu man mano che aggiungi cose Lui perfeziona Si 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 Eh per questo sto dicendo che Cioè vi chiedo già fin da ora Di che gusto volete il cono gelato Questo qui è bellino Quale? Questo qui Proviamo a vedere questo stile qua Oh Qua L'ha fatto Altre cose su cui possiamo divertirci è Vogliamo vedere se riesco a fare l'immagine per il mio canale A disegno Oh Non è brutto come stile eh Proviamo a vedere se lo avviciniamo un po' più a come sono nella realtà Così è cambiato troppo Però ha unito questi due fattori Ha creato da questi due volti Un terzo volto I capelli lunghi A questo punto la vera cosa che voglio provare è Come sarebbe se noi prendessimo Che ne so Me E lo unissimo Con Francesca E la famosa cosa di tipo Non riesco a immaginarmi come potrebbero essere i vostri figli No Eccolo qua Guarda Guarda Meglio che non li fate Ma guarda è carino È bella Non insultare mia figlia Guarda qua Francesca Vuoi vedere i nostri figli? Vieni qua Oddio È vero? Ma lei non è me Oh no Non ti ci rivedi in questo No E perché la dentatura è disallineata? Tende a mettere in mezzo alla faccia Un dente Beh Riccardo È un incubo Utilidimi Voi che cosa ne pensate? Questi qua sono strumenti che noi potremo in futuro Utilizzare Per realizzare in maniera più veloce O più efficiente Qualcosa comunque di personale O si andrà letteralmente a sostituire una figura professionale Tipo che invece di chiedere a quel disegnatore di farmi la mia versione a cartone animato C'è già un'intelligenza artificiale che lo fa in un click Fatemi sapere cosa ne pensate Ma secondo te queste applicazioni qui Quando raggiungerà la perfezione Quanto disincentiverà un artista a migliorarsi O addirittura a diventare un illustratore Quando sa che ci sono gli strumenti Secondo me questo qua magari si integrerà nel processo di creazione di un qualcosa Ma non disincentiverà Perché è un po' come dire Ora c'è la macchina fotografica Ora possiamo fare ta e fare delle fotografie Perché dovrei fare dei ritratti? Sì Cioè posso fare una foto Ma sai cosa potresti fare? Sì Potresti caricare due disegni tuoi e fonderli Cioè per esempio se io dovessi fare Ok Proviamo a vedere come sarei io se cercassi di fondermi con il ladro di cuori Che già di base è fuso con un so cosa Che cosa diamo noi? E io direi che per ultima cosa Vi siete mai chiesti un cane e una pizza quanto hanno in comune? Cosa? E' un ratto E' un ratto ciccione E' un ratto ciccione Ma cosa c'entra con la pizza? Cosa c'entra con la pizza? E' l'impasto E' la pallina di pizza Aspetta aspetta Io ci sono Eccolo Questa è la cosa più vicina a un cane pizza E' una pagnotta quella E' un cane pagnotta Finisco questo video mettendo il chaos Al 99% Voi fateci sapere che cosa ne pensate di questo argomento nei commenti Quello sembra Sembra un preservato usato Non puoi dirle ste cose Eh no Vabbè un preservato Anzi si incentiva Ma papi Ciao Ciao